Un saluto dal Tg della Mobilità. Oggi lo sciopero dei trasporti per bus, filobus, tram metropolitane e per le ferrovie Romalido, termini Centocelle e Roma Nord, possibili stop dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. Le altre notizie. Sicurezza stradale. Da inizio anno oltre 700.000 controlli da parte della Polizia Locale sul rispetto delle norme stradali. Tra le infrazioni rilevate, la doppia fila e la circolazione dei veicoli senza revisione o assicurazione. Manutenzione stradale riqualificata completamente la casilina nel tratto tra Porta Maggiore e Via Gallarate. Rifatto il manto stradale, pulite le caritoie e rinnovata la segnaletica orizzontale. Nei prossimi giorni sarà rifatto il manto stradale anche nel senso di marcia opposto.